concentrato 5 4 3 2 1 vai destra 3 apre per sinistra 3 per destra veloce per destra 3 per dentro sinistra 3 20 al cancello destra 3 attenzione sul chiude 20 sinistra 2 20 sinistra 2 in destra 2 in sinistra 3 più in sinistra 2 sale 50 alla casa sinistra 2 in dentro tornante destro la seconda in sinistra 4 in destra 3 lunga in ritarda sinistra 2 ritarda sinistra 2 in destra 4 30 falla sinistra 5 più in sinistra 3 in sinistra 3 in destra 3 meno in sinistra 3 30 al ponte destra 3 al ponte destra 3 in sinistra 4 in destra 2 dentro 70 70 al pino sinistra 3 più sinistra 3 più in alla casa sinistra 3 meno 70 destra 3 più diventa 4 più per falla sinistra 5 più 20 al ponte al palo sinistra 4 salta sconnessa 70 per falla sinistra si falla sinistra veloce sinistra 2 attenzione sinistra 2 30 a destra 2 dentro 20 sinistra 2 20 dentro sinistra 2 più 30 a ritarda destra 3 meno 50 50 sinistra 4 meno meno in ritardo a destra 3 lunga ritardo a destra 3 lunga vai vai 20 ritardo a sinistra 2 vai vai sinistra 2 ritardo a dentro destra 3 ritardo a dentro destra 3 vai vai tranquillo bivio sinistra 2 taglia sporco 50 sinistra falla sinistra 6 50 tieni sinistra e attenzione ritardo a destra 2 più per in destra 3 su bivio 150 tieni sinistra e destra 4 fino al muro e stacca bivio sinistra 1 sale 50 50 bivio attenzione destra 1 no 100 destra 4 e attenzione sinistra 3 meno 2 tempi sul pavè attenzione scivola la prima 30 30 tieni destra ecco la seconda destra tosso 30 vai 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 sinistra 4 più e attenzione sinistra 3 meno 2 volte in attenzione palo ritardo a destra 2 brutta destra 2 brutta per bella sinistra 5 bravo vai 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 sinistra 5 sinistra 2 apre 100 tieni sinistra vai vai falla scorrere falla scorrere inversione destra sinistra 2 sale scende attenzione 30 sinistra 1 meno brutta in destra 1 brutta attenzione a destra e non tagliare vai vai 200 e attenzione sconnesso sinistra 3 meno in ritardo destra 3 più 50 tieni sinistra e attenzione alla casa bianca destra 1 subibio cieco e attenzione falla sinistra 3 più 20 dosso 30 destra 3 lunga attenzione destra 3 lunga in sinistra 3 meno taglia 30 sconnessi con dosso doppio dosso e attenzione destra 3 attenzione destra 3 in sinistra 3 meno Fabri in sinistra 3 meno in destra 3 in sinistra 2 no 2 no in sinistra destra 3 più 100 attenzione sinistra 2 meno su dosso butta fuori come prima 20 destra sinistra 3 in destra 3 taglia destra 3 taglia 50 bravo 50 sinistra 3 meno sinistra 3 meno in attenzione diventa a destra 3 diventa 2 alla strada e subito sinistra 1 dentro in destra 3 lunga 30 destra 3 più dosso attenzione sinistra 2 bagnata occhio quella è bagnata per destra 3 lunga per dosso destra 4 per dosso destra 4 in sinistra 4 lunga 80 vai vai 80 e attenzione al muro destra 3 meno dopo il muro dopo il dosso vai vai per al palo sinistra 3 con dosso e attenzione sinistra 2 sporca attenzione butta fuori attenzione butta fuori per 30 guarda la sinistra veloce che è piena attenzione destra 3 sconnessa attenzione destra 3 sconnessa vai vai buttate dentro vai vai 100 sconnessi attenzione destra 3 più taglia poco 3 più taglia poco 3 più taglia poco 30 destra 3 meno taglia sinistra veloce guardala vai 30 sconnessi a sinistra 3 meno taglia 50 vai vai al cartello destra 3 50 con dosso pieno vai dosso veloce vai 100 sconnessi attenzione destra 3 più attenzione destra 3 più per guarda la sinistra veloce vai Fabri buttate dentro vai per guarda la sinistra veloce 80 destra veloce diventa 3 meno sul dosso scende occhio quarta vai sinistra 3 più vai taglia 100 sinistra veloce guarda e attenzione stacca per cancello destra 3 30 dosso pieno 50 attenzione destra 2 meno meno basta ok mostrami di bene si è meglio eh attenzione destra 3 meno sul